Drenacist Plus è un integratore alimentare concepito per le vie urinarie, per favorire la loro funzionalità fisiologica. È disponibile in pratiche bustine Stipec liquide pronte all'uso. Ogni bustina apporta 54 mg di proantocianidine o anche note come PAC da cranberry, un grammo di dimannosio e gli estratti di bisco e di propoli. La formula completa e innovativa è in grado di agire a livello delle vie urinarie migliorandone la funzionalità fisiologica e per sfruttare appieno i benefici si consiglia l'assunzione di una o due bustine al giorno a seconda delle esigenze. Il prodotto è naturalmente privo di glutine e rappresenta un valido aiuto per la funzionalità fisiologica delle vie urinarie. Grazie